siamo qui a marcellina con due ragazzi del paese sapete che ci sono prossimamente ci saranno le elezioni qui ci sono quattro candidati non so se voi conoscete i nomi di qualche candidato o meno l'avvocato forse ecco con cui riconoscete un nome in particolare poi c'è il sindaco sciente poi gli altri due sono aldo valeriani e cesare placidi scusate che cosa vi aspettate ecco che cosa chiedereste a questi candidati sicuramente di sistemare le piazze di sistemare diciamo un po più di cose per i giovani di dare una mano anche ai ragazzi che sono depose una mano in che senso più lavoro più lavoro ingrandire il paese per i giovani c'è molta delinquenza quindi anche più sicurezza più sicurezza e di dare una spinta ai giovani a non distruggere niente ecco se fa una cosa poi dopo due giorni è distrutta quindi giustamente se uno fa una cosa se stiamo alla piazza se la vuole tenere bene quindi non è che dopo due giorni deve stare distrutta ecco per esempio qui ci stanno le ringhieri distrutte e altre cose distrutte ad esempio questo diciamo anche la spazzatura che non c'è la spazzatura in giro per strada stessi qua va bene quindi per sicurezza e lavoro già un grande grande programma anche turismo anche turismo portare portare un po di rossi che non si conoscono e vengono trasandati lasciati così una montagna che in montagna c'è solo molti grazie salve